Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti e ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e dalla maglietta della nazionale finlandese di OK su ghiaccio Suomi Finland, paracane! Va bene, signori, signori, ok. Finalmente, dopo due anni, dopo tante richieste, dopo tante, tante, tante suppliche anche, dopo, ah, ce ne devi parlare di questo, ah, ce ne devi parlare, tu non ce ne parli, perché non ci parli del Panther? Avete voluto il Panther? E io il Panther vi do, eccolo qui, il Panzerkampfwagen V Panther, eccolo qui, in tutto il suo splendore, in tutto il suo teutonico massicciume, in tutta la sua tedesca cazzutaggine, il migliore tra i Panzerfelini tedeschi. Indubbiamente, senza se e senza ma, il Panther fu indubbiamente il miglior mezzo corazzato tedesco della seconda guerra mondiale, anche se, come ben sapete, non era privo di difetti, anche se aveva i suoi bravi problemi, che non dipendevano tutti, ripeto, non dipendevano tutti, dal mezzo corazzato in sé, che era un'ottima base, ma che purtroppo aveva problemi e difetti di vario tipo, che adesso provvederemo un attimo ad analizzare. La fonte, di nuovo, è la seconda guerra mondiale di Arrigo Petacco, la scheda tecnica del Panther, ripeto, eccovelo qua, assolutamente inconfondibile. Allora, il Panther nacque più o meno quando apparve sulla linea di combattimento il T-34 russo, che impressionò enormemente i generali tedeschi, che si accorsero di punto in bianco di avere a che fare con un carro che poteva tranquillamente battere i migliori corazzati tedeschi in servizio al momento. Dopo i primi istanti di panico, però, i rapporti dal fronte fecero chiaramente capire che, se i russi erano in possesso di un'arma eccellente, non potevano sfruttarla nel migliore dei modi, o per pienure di materiali, o per difficoltà dell'industria bellica, o per scarsa esperienza degli equipaggi carristi. Perché, oggettivamente, ricordiamoci che i T-34 furono usati inizialmente in piccolo numero e senza un preciso criterio per un concorso di tutte e tre le cause sopracitate, ovvero sia i problemi che avevano affrontato le prime serie dei T-34. Una produzione stentata, una scarsa affidabilità per usare un eufemismo del cambio e del motore e dei cingoli e, soprattutto, la fallaccia delle tattiche e lo scarsissimo addestramento dei carristi sovietici. Allora, questo naturalmente lo stato maggiore tedesco non poteva saperlo, ma poteva immaginare che prima o poi anche i carristi dell'armata rossa, come i loro colleghi della Panzerwaff, si sarebbero fatti le ossa e la cosa, a quel punto, avrebbe preso una piega tutt'altro che simpatica. Come disse Guderian, la famosa frase di Guderian, i russi stanno imparando la lezione, la faccenda si fa seria. Settembre 1941. Allora, si decise quindi di solicitare al massimo l'industria bellica tedesca, che nella madrepatria stava studiando nuovi tipi di carri armati. Dal momento che non era pensabile accelerare ulteriormente la realizzazione dei modelli più pesanti che in seguito avrebbero originato i famosi Tigre, Hitler fece in modo che il maggior impulso venisse dato alla realizzazione di un nuovo tipo di carro da 30 tonnellate. Questo vedrà la luce nel settembre del 1942, ma poco dopo verrà costruito il prototipo definitivo, che recava delle precise modifiche richieste dal Führer in persona. La denominazione di questo mezzo, che verrà accettato e messo immediatamente in produzione, era Panzerkampfwagen 5, Panther o Pantera. In effetti i progettisti avevano soddisfatto più che largamente le richieste dei militari, corazzatura sufficientemente robusta con superfici fortemente inclinate per deviare i colpi in arrivo, carreggiata larga e cingoli sufficienti a garantire una buona marcia anche su terreni fangosi o innevati. Torretta ruotante di 360 gradi dotata di un cannone più potente di quelli in servizio. Lo scafo del Panther era realizzato con lamiere saldate, aveva uno spessore massimo di 80 mm e nella parte anteriore un'inclinazione di 55 gradi, che consentiva ai colpi di scivolare senza toccare la parte superiore della torretta. I cingoli per la marcia normale, larghi 66 cm e la carreggiata sufficientemente larga garantivano, oltre ad una sufficiente capacità di marcia su neve o fango, una piattaforma di tiro eccezionalmente stabile. In torretta infine c'era un pezzo da 75 mm lungo ben 70 calibri, in grado di perforare 140 mm di corazza d'acciaio a 1000 metri di distanza. La difesa ravvicinata era affidata a due mitragliatrici MG34 da 7,92, mentre una terza era montata quassialmente al cannone. Di questo eccellente carro, che a detta di molti esperti è considerato forse il miglior corazzato impiegato nel conflitto, verranno anche costruite una versione come carro recupero e una piccola serie, poco meno di 400 unità, modificata come cacciacarri con un pezzo da 88,71 in casa matta anziché in torretta. In tutto verranno impiegati dalla metà del 1943 agli ultimi giorni di guerra circa 6.000 Panther, oltre alle versioni speciali. Il Panther, ripeto, vide la luce nel 43, pesava quasi 45 tonnellate, era lungo 8 metri e 86, largo 3 metri e 42, alto 3 metri, aveva, ripeto, una protezione massima di 80 mm, un motore Maybach HL 230 da 700 cavalli, su strada filava fino a 45 km orari, fuoristrada un massimo di 30 km orari, un'autonomia su strada di 200 km e su terreno vario di soli 100. Un equipaggio di 5 persone, il cannone da 75 mm, le tre mitragliatrici da 7,92 che avevano rispettivamente 79 colpi e 4.500 colpi. Superava una trincea di 2 metri e mezzo circa, un gradino di 90 cm e una pendenza massima di 30 gradi, con un guado di 1 metro e 70. Insomma, il Panther, probabilmente era il miglior carro armato tedesco della seconda guerra mondiale, un carro che pur non privo di difetti seppe farsi valere dannatamente bene perché era, se vogliamo, il giusto compromesso tra protezione, potenza di fuoco e mobilità, il principio, se vogliamo, del moderno carro armato. Aveva alcuni problemi, non da poco. Innanzitutto, come tutti i carri tedeschi di seconda generazione, andava guidato in maniera attenta e delicata perché aveva dei problemi gravi alla trasmissione. Il treno di rotolamento, il famoso treno di rotolamento a ruote sfalsate, eccolo qui, guardate bene, un autentico incubo per la manutenzione. Fortunatamente non era grosso come quello del tigre o del Königstiger, ma era pur sempre decisamente balordo perché se eri particolarmente sfortunato e si rompeva una ruota del treno di rotolamento nella posizione sbagliata, occorreva praticamente smontare tutto e rimontare tutto quanto da capo. Come ho detto più volte, per sostituire una ruota del carrello di sospensioni dello Sherman bastavano tre o quattro ore. Per cambiare una ruota del treno di rotolamento del Panther si rischiava di perdere una giornata intera, se non di più, perché era un mezzo che aveva delle complicazioni inutili e questo qui non stiamo a girarci intorno. Per quanto il Panther fosse un carro efficiente, per quanto il Panther fosse un carro armato eccellente, aveva dei difetti non da poco. Difetti che lo penalizzarono non poco durante tutto il corso del conflitto. Io ho citato più volte le parole del generale Guderian. Guderian durante l'operazione Barbarossa, l'avanzata tedesca durante Barbarossa incontrò i primi esemplari di T-34 e ne furono catturati alcuni. Guderian, che era all'epoca il maggiore esperto vivente di guerra corazzata, disse semplicemente portate questi mezzi, questi T-34 in Germania, copiateli pari pari e metteteci sopra la torretta del Panzer IV con il 75 mm lungo. non lo stettero a sentire e progettarono il Panther perché volevano fare qualcosa di più, volevano fare qualcosa di meglio, ma in realtà ottenero sì un carro dalle eccellenti prestazioni, ma fu un carro il cui debutto operativo nel 1943 fu segnato da enormi problemi di affidabilità. Perché? Perché per la fretta di metterlo in servizio non si erano fatti prove e collaudi a sufficienza e a Kursk il Panther, siamo sinceri, non è che fece una gran figura. Quando si venne a capo dei problemi, quando si riuscì a rendere più affidabile il mezzo, il Panther divenne indubbiamente, molto probabilmente, il miglior carro armato dell'arsenale della Panzer Waff perché era agile, potente, versatile, veloce, con un eccellente armamento, con un'eccellente ergonomia e soprattutto con una eccellente corazzatura. Il problema era sempre il solito dei carri tedeschi di seconda generazione, le difficoltà di manutenzione, le difficoltà nell'addestramento dei piloti e dell'equipaggio, la delicatezza degli organi di trasmissione e, ripeto, una certa inaffidabilità di fondo che non fu mai possibile risolvere. Insomma, signori, Panzerkampfwagen V, Panther. Eccolo qua. Il migliore, sicuramente, della famiglia dei Panzergatti corazzati tedeschi, molto probabilmente uno dei mezzi corazzati migliori della seconda guerra mondiale in assoluto. Tutto qua. Quindi, cari signori, come sempre, come al solito, aspetto le vostre considerazioni sui commenti, aspetto che mi diate i vostri pareri, aspetto, come sempre, correzioni e ulteriori considerazioni sul Panther. Quindi, cari signori, vi aspetto, ripeto, e come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Ciao!